Ma tu, e di chi è questa? Ah, è mia. La guidavo quando ero ragazzo. E? Hai sentito quello? Ah, sì. Ero il leader del mio gruppo musicale, i Vintage. Facevamo repertorio anni 60, 70, 80. Quello è Michele, il batterista, oggi è un produttore incredibile. E l'altro invece è Nico, un autore pazzesco. Scrive per i big della musica, sa? Fortissimo. Eh, sì. Beh, fammi sentire qualcosa, dai. No, ma sono vent'anni che non canto, non suono. Beh, una canzone, dai. Ma non... Va, va. Vediamo, ma non le assicuro niente di... L'ho visto là! L'ho visto mia! L'ho visto là! L'ho visto mia! L'ho visto là! Gigi, ti vedi... Ma tu questo lo facevi in pubblico? Sì. E nessuno mai ti ha alzato le mani. Senti, anche lei puzza di bruciato? Qualcuno ti avrà sentito cantare e si è dato fuoco.